Bene amici, anno nuovo, tradizioni vecchie, cantinetta di gennaio per vedere se si sono aggiornati e come si sono aggiornati gli smartphone e a questo giro è ancora più importante capirlo perché proprio i primi di gennaio, il 3 e il 4, alcuni sviluppatori di Google insieme ad altre persone ma si sospetta che si sapesse anche prima insomma i soliti complotti internazionali, veri, falsi, non lo so sta di fatto che è vero il bug che è stato trovato su tutti i processori Intel, AMD e anche ARM, quindi tutti i PC, Mac e anche tutti gli smartphone possono potenzialmente essere attaccati da queste due vulnerabilità si sono state chiamate Spectre e Meltdown, sto leggendo ovviamente gli appunti perché tanti di questi telefoni si sono aggiornati e i produttori stanno correndo al riparo per mettere delle patch software, vedremo se queste patch rallenteranno, non rallenteranno, funzioneranno, non funzioneranno ma ai propri smartphone, ai propri sistemi operativi e allora partiamo subito da iPhone 8 e iPhone X, tra l'altro iPhone X ho fatto proprio di ieri la riprova dopo due mesi quindi non starò a rifarle, rifarle vedere niente idem, stessa cosa, di pari passo va all'aggiornamento software su iPhone 8 e vedete anche lui 11.2.2 che è proprio quella patch che è servita a andare a mettere una pezza a questo bug a questo giro vi parlerò un attimino anche di prezzi per capire se si sono abbassati, se si sono stabilizzati, l'andamento e vi dico subito, iPhone 8 tra gli 890 e i 1120 euro e qua faccio una piccola premessa il primo prezzo che vi do, quello più basso, è stato rilevato su pagomeno.it ma attenzione perché spesso i siti che sono in alto su pagomeno.it, quindi dove i prezzi sono più bassi sono quei siti che fanno qualche probabile magheggio con l'IVA un po' come faceva stochisti, su stochisti sono sicuro lo posso dire perché la guardi finanza e la magistratura stanno facendo indagini proprio in quel senso e quindi un pochino di attenzione mentre il secondo prezzo che vi do è quello di un telefono spedito e venduto da Amazon o comunque da un venditore certificato e verificato iPhone X anche qua street price 1145 euro quello basso il mio è il 256 oppure prezzo pieno di listino ma andiamo a parlare di telefoni che si sono aggiornati e partiamo con il Note 8, finalmente sono arrivate le patch di dicembre guardatevi, ricordate il mio Note 8 era uno di quelli che non si aggiornava invece si è aggiornato con la 711 Samsung Experience 8.5 ovviamente per lui arriverà sicuramente Oreo tra non molto almeno questo è quello che è stato promesso da Samsung invece porca miseria l'S8 mio plus succede che non succede niente infatti se vi faccio vedere versione Android è ancora la 7 e le patch di sicurezza sono ancora al primo giugno del 2017 e se anche vado nell'aggiornamento software scarica manualmente gli aggiornamenti niente, non c'è, non c'è assolutamente verso mistero, forse lo formatterò, vedrò cosa fare so comunque che è uscita la beta di Oreo all'estero per installarla alle nostre latitudini è un po' complicato perché bisogna sbloccare il bootloader, flasharlo, insomma fare un sacco di cose e quindi aspetterò la versione ufficiale che arriverà verso fine gennaio primi di febbraio e se a quel punto non arriverà sì lo flasherò, lo smanetterò però voglio capire anche OTA perché è un mio telefono ufficiale normalissimo acquistato quindi se arriveranno o meno questi aggiornamenti prezzi Note 8, 709-800 euro 580-640 per S8 che ormai si è stabilizzato nella sua discesa di prezzo e poi il G6, sono arrivati due aggiornamenti che l'hanno portato alle patch di 6 novembre 2017 versione Android 7.0 andiamo indietro, inizialmente cancelliamo un po' tutte le notifiche tutte le volte che lo prendo in mano, beh, devo dire che ha un bel form factor e ai prezzi attuali diciamo che è anche interessante perché è arrivato a costare intorno ai 350-360 euro che lo rendono un telefono veramente appetibile peccato che sia ancora basato su Android 7.0 e comunque gli aggiornamenti non arrivino sempre puntuali anche se abbiamo visto a questo giro sono arrivati ma novembre invece il V30 non è successo niente rispetto alla recensione vedete Android ancora 7.1.2 settembre 2017 le patch di sicurezza anche qua andiamo a cancellare tutto anche il V30 è un altro di quei telefoni che mi piace molto per come si prendono in mano, come stanno in mano il form factor, il display l'usabilità quotidiana, non so questi due LG pur avendo tutti i mille difetti che volete trovargli tipo la fotocamera anteriore del V30 non è il massimo il G6 era uscito ancora con l'821 quindi non con l'ultimo processore 835 ma sono telefoni che proprio quando li prendo in mano e io li prendo in mano quando rifaccio l'aggiornamento a cantinetta sono proprio belli da toccare prezzo del V30 tra l'altro 650 e 750 euro finalmente è arrivato in commercio a dicembre si è fatto attendere a lungo e si costa ancora un pochino tanto ma parliamo di OnePlus 5T qua dovete morire con i 559 euro necessari a comprarlo la versione 128 ovviamente ma guardate è arrivato la beta di Oreo Open 1 perché è la prima beta con le patch di sicurezza del primo dicembre 2017 cosa cambia? beh oltre alle novità di Oreo quindi i pallini sulle notifiche se io ne avessi in questo momento non ne ho ah si guardate c'è un pallino qua perché ho una notifica di Instagram poi il picture in picture che funziona molto bene qua lo sto usando con con Maps è già una release molto molto stabile e ragazzi che dirvi il OnePlus rimane sempre uno dei miei telefoni preferiti perché gira veramente bene tra l'altro sul 5 normale non T è già arrivato Oreo stabile che arriverà entro fine gennaio anche su questo 5T passiamo a parlare del dell'Honor 9 intanto mi sposto gli appunti è arrivata sì è arrivato qualcosa sono andate le patch di novembre guardate se è in novembre 2017 Android però è sempre in versione 7.0 e le Motion UI in versione 5.1 parliamo un attimino dei prezzi di uno dei telefoni che mi è sempre piaciuto tanto a livello di design 320 euro 350 euro gli Honor non scendono mai tantissimo di prezzo hanno dei buoni prezzi di partenza e poi hanno questa politica che io apprezzo anche perché poi anche sul mercato dell'usato mantengono bene il loro valore e poi il Pixel 2 XL è arrivato addirittura Oreo 8.1 con le pezzi di sicurezza del 5 dicembre 2017 che ha migliorato tantissimo il display già nell'ultimo confrontone che avevo fatto con tutti i vari telefoni avevo notato questa cosa rimane sempre quella sorta di viraggio all'azzurro se lo ruoto da questa parte ma sicuramente proprio la qualità dei colori è migliorata tanto un però e vi dico che è in rollout il rilascio delle pezzi di gennaio dove anche Google ha messo diciamo proprio una pezza a quei problemi iniziali del bug del processore quindi l'aggiornamento delle pezzi di gennaio su tutti gli smartphone sarà molto importante proprio per quello che vi ho detto e appunto è in rollout quindi magari a gennaio farà un altro video sulla cantinetta quando arriverà questa questa versione diciamo delle patch aggiornate e poi parliamo di Mi 6 non vedete il prezzo del Pixel 2 XL perché là dovete morire 960 euro costa tanto continua a costare tanto e non si trova su altri siti 350 euro invece per il Mi 6 che tutte le volte che prendi mano dico cavolo i telefoni piccoli e compatti però sono una gran bella cosa perché si riescono a utilizzare bene con una mano qua ho la MIUI 9 Global Beta quindi si aggiorna non settimanalmente ma diciamo una volta al mese più o meno pezzi di sicurezza di novembre ancora 7.1.1 Android continua a girare molto bene bello fluido bello reattivo tra l'altro l'ultima versione della MIUI è leggermente cambiata da un punto di vista grafico non mi dispiace assolutamente vi ho detto del prezzo si trova 3.20 su altri siti diciamo di importazione ecco da dire una cosa Xiaomi sta arrivando si nel nostro paese si trovano già su Amazon alcuni modelli ma al Mi 6 purtroppo non si trova quindi bisogna ancora comprarlo di importazione e vi consiglio di comprare a questo punto la versione Global e poi il Sony re degli aggiornamenti rimane tale anche se Android non è 8.1 le page di sicurezza sono al dicembre del 2017 chissà se con le page di gennaio seguirà il Pixel cosa che di solito fa e arriveranno diciamo arriverà anche qua Oreo in versione 8.1.0 anche qua è interessante parlare del prezzo perché è arrivato a un costo di 480 euro minimo 580 su Amazon insomma a questi livelli di prezzo con le prestazioni che ha a me piace il sensore di sblocco laterale impermeabile a me questo telefono piace quindi ve lo consiglio stiamo parlando invece di un Huawei e lo sblocchiamo così il Huawei P10 Plus ecco la serie P10 non l'ho mai nascosto non mi ha mai fatto impazzire Android 7.0 Emotion UI 5.1 e qua le patch di novembre 500 e 550 euro i prezzi per un telefono che boh mi è già arrivato tra l'altro l'invito per Barcellona Mobile World Congress fine di febbraio perché perché c'è la conferenza stampa di Huawei dove arriverà molto probabilmente il P11 e se tra il P9 e il P10 non c'è stata una grande rivoluzione poche modifiche che a me non sono piaciute tantissimo P11 si invece prospetta molto molto diverso parliamo invece del Mate del Mate 10 il P10 tra l'altro prezzo tra i 500 e i 550 euro cambio foglio e andiamo a vedere cosa è successo 600 euro il minimo 720 euro il massimo bello un telefono che mi è piaciuto Android ancora motion UI 8 e Android appunto 8.0 con le patch di ottobre però strano che sul mio Mate 10 Pro non siano arrivati quegli aggiornamenti software ne è arrivato uno ma non sono arrivati aggiornamenti software che ho letto sul web arrivati ad altri forse con telefoni stranieri forse altri paesi non lo so non so come sia c'è da dire una cosa che sugli Honor Huawei bisogna inserire la sim per far arrivare gli aggiornamenti io l'ho fatto ma comunque non mi è arrivato non mi è arrivato nulla 11 anche qua 11 niente aspettando ancora l'11 plus spero che mi arrivi presto perché sono curioso di provarlo qua nulla da dire 711 patch ancora di ottobre si è raggiornato l'ultima volta prezzo tra i 495 euro diciamo minimo 623 massimo anche qua andiamo a cancellare un po' di notifiche che nel frattempo si sono accumulate e torniamo alla home page eh vabbè qui c'è il mio albero di Natale preferito il diciamo l'Alcatel a 5 led si ma non stiamo a guardare gli aggiornamenti software non arrivano mai le pezzi scurezza non arrivano mai ma è sempre così bello e ragazzi acceso lì da 3-4 non mi ricordo quanti mesi tra l'altro guardate qua sto giusto guardando un video sulla cantina vabbè si sono le mie pirlate che faccio di tanto e non l'ho mai spento eppure non si è mai spento non ha mai avuto problemi e le notifiche continuano ad arrivare perché le vedo dai led dietro vabbè bando alle ciance nuovo arrivo in cantinetta ho fatto la recensione da pochissimo il prezzo è stock 499 non si trova a meno perché è appena uscito Honor View 10 nulla da segnalare dalla recensione page di sicurezza del novembre 2017 ma eccolo qua che entra in cantinetta e poi andiamo con i telefoni diciamo tra virgolette secondari riassumo un attimino i miei appunti Mi A1 allora sul Mi A1 c'è da fare anche qua un ragionamento perché guardate informazioni sul telefono Android ancora 7.1.2 ok le patch di dicembre lui è un Android One come c'è scritto qua dietro su questo sfondo molto maschio e da dire però una cosa che a tantissime persone che io conosco è già arrivato Oreo io ho provato a forzare l'aggiornamento a fare un sacco di cose ho seguito tutte le guide sul web per far cercare di farmi arrivare Oreo insomma non l'ha fatto però non voglio flashaglielo sopra voglio vedere OTA quando mi arriverà e quindi sappiate che su molti è già arrivato sul mio no ma arriverà presto Oreo vedete il sistema aggiornato niente da segnalare anche qua sarò veloce sul Redmi 5 Plus perché sto aspettando allora Xiaomi.eu che tra l'altro ha gli aggiornamenti OTA ne è arrivato uno da un giga e due che non ho fatto perché voglio aspettare la versione la versione global ho appena fatto la recensione da poco quindi finché non ci sarà la versione global lui starà lì comunque sempre belle le gesture e comunque guardate la differenza tra due telefoni che sono praticamente uguali ma quanto il display 18 noni dona modernità agli smartphone è vero magari a volte dona anche un po' meno di usabilità soprattutto quando il sensore di impronte dietro e non c'è lo sblocco facciale però comunque da un punto di vista design paga particolarmente all'occhio non vi ho detto i prezzi la 1 si trova e prendo qua il bigino tra i 162 euro su Gearbest addirittura trovate avere un coupon a un prezzo folle però soliti problemi Gearbest assistenza assicurazione arriva in quanto tempo non lo so però comunque si risparmia 230 grosso shop spedito dall'Europa c'è anche lì su offerte.tech trovate dei coupon proprio pubblicati ieri se non sbaglio 260 su Amazon lui si trova su Amazon invece il Redmi 5 Plus non si trova 199 euro su grosso shop torniamo su telefoni sempre cinesi ma comunque garantiti in Italia sblocchiamo il P10 Lite patch di novembre sono arrivate vedete 6 novembre 2017 rimane sempre la vecchia versione di Android 7.0 anche qua cancelliamo un pochino di notifiche e facciamo un ragionamento sul prezzo tra i 215 e i 250 euro a questo livello di prezzo è un telefono che inizia a diventare particolarmente interessante anche se lui e il P8 Lite 2017 al quale non è arrivato assolutamente nessun tipo di aggiornamento mi dite in tanti ho verificato anch'io con il mio Fitbit Ionic e anche con altre cose che ha qualche problemino proprio con i wearable a livello di bluetooth non so perché ma i Huawei di fascia bassa hanno a volte questo tipo di questo tipo di problema comunque non è successo niente appunto in Motion UI 501 Android 7.0 eccetera 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 con le pesce di sicurezza ancora a ottobre del 2017 e poi c'è il nostro amico Honor 6X al quale sono arrivate le pesce di novembre guardate se novembre 2017 nessun aggiornamento per quanto riguarda la versione di Android che rimane sempre la stessa rimane sempre uno dei miei telefoni del cuore diciamo così era un best buy quando è uscito ormai a 199 euro c'è probabilmente di meglio però attenzione che si trova a 150 euro sul prezzo più basso di pagomeno.it a quel prezzo difficile trovare di meglio comunque rimarrà qua in cantinetta finché non morirà oh l'S7 S7 secondo me bisogna fare un ragionamento perché non è arrivato nessun tipo di software nuovo patch di sicurezza ancora a ottobre del 2017 ma quanto costa a oggi tra i 370 e i 430 euro per un telefono che è impermeabile è bellino è piccolino e fa delle ottime foto potrebbe avere un senso qual era il difetto di questo telefono? la batteria che non era il massimo comunque aspetta anche lui lì in un angolo Oreo che dovrebbe arrivare nel 2018 non che dovrebbe che arriverà perché è stato annunciato e poi a 5 2017 qua invece l'aggiornamento è arrivato informazioni sul software Android sempre 7 con le patch di novembre 2017 anche per lui Oreo arriverà nel 2018 non è ancora stata annunciata una data precisa ma comunque verrà aggiornato e poi e poi e poi devo cambiare pagina perché siamo quasi alla fine siamo con lo Zenfone 4 tra l'altro non vedete i prezzi della 5 scusate mi sono dimenticato tra i 270 e i 270 euro perché c'è da dire una cosa da fare una considerazione che è un po' simpato adesso mi arriverà una querela sicuramente tutti quei siti che trovate in alto su pagomeno.it ma su tutti i motori di ricerca dei prezzi che secondo me fanno un po' i furbetti poi non è detto attenzione con l'iva non tengono i telefoni un po' vecchiotti quelli che interessano meno quelli che hanno meno smercio e quindi su quei telefoni non si trovano tutti quei divari di prezzo che invece si trovano sui telefoni che vendono veramente tanto chiusa questa parentesi è una mia supposizione ma magari sicuramente non sarà così andiamo sullo Zenfone 4 tra i 405 e i 533 euro secondo me folli per cosa? per sì aggiornamenti ne sono arrivati tanti con le pesce di novembre 2017 Android in versione 7.1.1 ma per un software che secondo me ha una grafica veramente veramente vecchiotta non lo so gli Zenfone quest'anno gli Zenfone 4 non mi hanno convinto appieno e invece attenzione e qua apro un sondaggione lo riprovo non lo riprovo perché mi ero un po' accanito su questo General Mobile 6 perché nelle promesse dell'importatore doveva arrivare Oreo parallelamente al Pixel non è successo ma attenzione perché qua è arrivato Oreo comunque prima di tanti altri telefoni smartphone con qua in cantinetta di brand più blasonati e allora guardate Oreo 7.0 con le patch di dicembre 2017 praticamente il sistema è stock con i pallini sulle notifiche non mi sembra neanche lento sinceramente anzi mi sembra che con questo Oreo si sia quasi dato una svegliata una nuova vita a questo smartphone che costa comunque 169 euro non si è abbassato di un euro rispetto a quando è uscito sul mercato che forse forse merita una riprova invece che riprovare tutti quei cinesoni malefici che mi arrivano magari riprovare quello potrebbe avere un senso ovviamente questa è un'autocritica poi BQ non è successo niente informazioni legali no ho sbagliato pagina 7.1.1 Android patch di novembre che erano arrivate la precedente volta qua non è arrivato ancora niente quando mi sposto sui menu c'è comunque quella vibrazione zanzarosa che odio però vabbè prezzo 350 euro per questo X Pro allora il Wiko è arrivato un aggiornamento software ma guardate ma perché ero sullo stato non lo so guardate ancora si è aggiornato all'ultima versione Android 7.1.2 male patch a settembre del 2017 prima c'era aprile adesso che è gennaio è arrivato settembre non lo so non riescono mai a essere a essere sul pezzo quelli di Wiko pur avendo fatto un bel telefono che è sceso di prezzo adesso costa tra i 185 e i 225 euro a questo prezzo se volete un 18 noni comunque piacevole potrebbe avere un senso no sopra i 200 non ce l'ha e poi andiamo sul moto G5 Plus non è successo niente ha ancora le patch di agosto guardate vecchissime rimane uno dei miei telefoni preferiti ma porca miseria perché non arrivano aggiornamenti ma attenzione perché potrebbe succedere quello che è successo sul moto Z play che in un colpo solo sono arrivati un sacco di aggiornamenti e è arrivato fino alla versione 7.1.1 ma soprattutto con le patch di sicurezza del primo dicembre 2017 e veramente sono arrivate nel giro di una settimana sono andati 5 aggiornamenti che hanno fatto mi sembra non so da dove era arrivato comunque agosto settembre ottobre novembre e dicembre uno dietro l'altro quanto costa oggi questo Z play forse sui telefoni un po' datati non ha più senso fare questo ragionamento ma tra i 299 e addirittura i 470 su Amazon Amazon dove si trova a 319 lo Z2 play che è uno degli altri miei best buy telefoni preferiti perché perché anche di telefoni probabilmente tra virgolette vecchiotti vengono messi in meno in offerta ne rimangono pochi quindi non interessa più tanto di venderli e quindi i prezzi rimangono alti stessa cosa per il G5 Plus ci trova il G5 S Plus a una cifra quasi inferiore e poi e poi il Blackberry Key One Black Edition non è successo niente ma anche perché l'ho appena provato e ho appena fatto la recensione di questa nuova variante 539 599 per gli amanti della tastiera fisica per i nostalgici è fantastico ma come vi ho detto nella recensione ormai ha veramente poco poco senso devo essere sincero mi turbo un po' questo bug che è stato trovato sull'hardware sui processori sul mio MacBook Pro è comunque arrivato già un aggiornamento di sicurezza ma anche su Windows sono state rilasciate delle patch di sicurezza non lo so magari andrà tutto a finire in una grande bolla di sapone magari i PC si rallenteranno tutti ma io che sto ricevendo i pezzi per costruire il mio super PC boh non lo so sto costruendo un super PC buggato un saluto da Andrea Galeazzi punto sai salami no questo è prosciutto fantastico ciao ecco cosa devo mettere in cantinetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti